buongiorno a tutti e benvenuti video tutorial in collaborazione con l'azienda pandale selective dove se volete fare dei acquisti potete usufruire anche di un codice sconto di 5 per cento se inserite il mio nome nella casella dove vi chiede il coupon il codice ecco e allora vi presento cosa ho realizzato realizzato questi orecchini che li ho nominati ma bel e anche cominciandolo può essere utilizzato i materiali sono pochissimi semplici cipollotti delle perle da 3 mm pure delle 8 0 poi vi farò vedere e della 11 0 veramente facile da realizzare anche per principiante e vi farò vedere l'altra versione che è questa era tanto che piace anche a voi è praticamente composto di due modulini realizzati questa maniera e vi farò vedere adesso cosa che colore ho scelto questi sono e qui avete il codice delle perline in vetro da 3 mm ma arrivano fino a 0 5 non sono le 8 0 nella descrizione c'è scritto 8 0 ma non le misure varie non state attenti e comunque io ho scelto di realizzare con questo colore un colore un colore rosa e ho scelto le perline che sono più o meno dalla stessa misura come vedete viene più che bene nel modulino poi un perno e poi farò vedere durante il lettore anche come come ho attaccato questo termine senza anellino lavorato in tessitura e poi farò vedere se magari vi può interessare anche questa maniera ecco mi diceva dei cipollotti 6x4 io in questa versione utilizzo ben tre colorazioni questo flussia e anche questo rosa poi anche dalla 11 0 e basta come filo utilizzate un 0 20 nel modo che restano un po più rigidi come lavorazione io utilizzo un 0 16 però c'è passando ancora due volte e in questo modo come vedete anche questo è abbastanza sta benissimo ho provato l'orecchio non si piega ecco che lo mette mette a fuoco perché c'è ecco c'era tanta luce e non si piega su se stesso e adesso iniziamo prendete un cipollotto ed entriamo dentro entriamo e basta mettiamo all'uscita prendiamo una 11 0 e torniamo dalla stessa cipollotta e la stessa cosa si fa anche da quest'altra parte da quest'altra parte non dice dopodiché uniamo i fili con due inadini rientro nella stessa cipollotta e tira bene finché il filo va dentro con il il nodino va dentro così quando taglio il filo non c'è pericolo che si snoda adesso entriamo nella 11 0 adesso dobbiamo prendere 4 per le da 3 mm alternate delle 11 0 allora una perla da 3 11 e così via finché in totale sono quattro si inizia e finisce con una perla da 3 in questo modo e ci colleghiamo con la 11 subito dopo con l'altro in questo modo e anche qui faremo la stessa cosa una perla da 3 11 una perla da 3 11 una perla e anche questa volta ci andiamo con la 11 andiamo avanti finché usciamo dalla seconda 11 0 andiamo a realizzare un archetto da 3 11 0 entra nella stessa 11 e usciamo dalla seconda per la e anche qui un cappietta da 3 tra una perla da tra e l'altra abbiamo inserito invece 2 10 entraremo e usciamo dalla seconda 0 e anche qui un capito da 3 non dice che mi resta entriamo nella stessa unice e usciamo dalla seconda e anche qui dove non ci si era entriamo in tutte quanto già tutta in giro e che usciamo dalla prima onde città da due e tra queste due dobbiamo inserire un nome la stessa cosa entriamo in tutte quante finché usciamo sempre dalla prima è anche qui non è che c'era in tante quante subito dopo finché usciamo da questa onde città che abbiamo sopra il capetto entriamo e usciamo è disposto nelle due indici praticamente bisogna uscire dalla 11 che svolge di più in questo modo adesso prendiamo una 11 per la da 3 un'altra volta una 11 per la da 3, una 11, un'altra cipolata per tre volte ed entriamo nella stessa 11 0 e tirate bene entrate nella 11 subito dopo nella 11 subito dopo finché poi andiamo a uscire anche qui finché usciamo dalla 11 questa è la seconda adesso come vedete questo è il modulino che voi dovete avere in più questo e adesso dobbiamo realizzare la parte di sopra e prendiamo sempre la stessa sequenza di prima una 11 per la da 8 una 11 cipolata e così via andiamo nella stessa 11 e andiamo avanti usciamo dalla 11 cipolata e cappellata della 11 cipolata tra 11 cipolata e di entriamo fino a uscire e anche qui faremo la stessa cosa la stessa sequenza mentre entriamo nella stessa 11 entriamo ancora di fianco ancora nella 11 subito dopo andiamo su a inserire il perno e uscite dalla 11 che sta nel mezzo in questa maniera e adesso vi faccio vedere come inserite il perno senza aver bisogno dall'anelino adesso prendete 2 unicero ed entrate nel nel foro in questa volta altre 2 0 e dentro nella stessa 11 e dove sono uscita tirate bene un'altra volta due anni che c'era rientro nello stesso foro del perno altre 2 e dentro nella stessa 11 da questi sono uscita e tirate sempre bene adesso entrò nel betto 11 che si trovano sulla sinistra e prendo 3 11 0 e dentro nelle due che si trovano sulla destra entrò nella 11 c sotto e adesso gira il lavoro e faccio la stessa cosa anche qui entro nelle due della destra e prendo 3 e dentro con la della sinistra e vedete mi piace veramente tanto questo questa modalità rientro nella 11 c sotto e quindi nelle 11 vado avanti esco dalla seconda seguo il corso entro nella unicero nella un dici di sinistra in questo nel mezzo e in tutte quante adesso faccio in giro finché si esce dal secondo cipollotto uscite da questa seconda cipollotto prendiamo la cipollotto se volete un altro colore e ci uniamo con questo cipollotto e usciamo dalla bella da te e tirate bene prendo una ondici e adesso ci colleghiamo con l'altro modo meno ed entriamo nella ondici dell'archetto un'altra ondici ed entriamo nella stessa entrata nella ondicine nel cipollotto tirate bene adesso prendiamo l'altro cipollotto e ci colleghiamo con il cipollotto nel modulino di testa ed è finito io ripasso un'altra volta ripasso ripasso in tutte quante così e ci vediamo dopo ed è con i film ti sono ripassata un'altra volta questi sono ma belli spero di aver pronunciato bene il nome e l'altra versione sono questi molto molto leggeri e come avete visto anche facili da realizzare e spero tanto che li realizzerete in tantissimo e come diceva anche con me ci andano è più che bello grazie a tutti questo è tutto ci vediamo presto ciao